buongiorno buon pomeriggio e buona sera benvenuti di nuovo su jurassic world oggi ci occupiamo di finire i dracorex e di finire le missioni il protoceratosauro che è una gran bella best con un bel po di difesa fast food no questo rifugio in emergenza negozi di abbigliamento ora finalmente solo il divertimento manca bar i trasporti sì perché tutto vicino non si è stava ancora facendo qua dracorex ok allora vediamo un po ho finito le ricerche quindi a sto punto devo solo vedere visitatori questo da un po di divertimento poco divertimento la sala giochi ma is la sorna is la pena tre cedi di ricerca is la muerta almeno quella is la tacano che è la terza la sala giochi quindi prima voglio negoti giocattoli per il tercano non potrò fare un bel po di roba è a almeno finalmente alla prossima isola posso sbloccare la mano la monorotaia questo fa cose fa tante belle cose allora vediamo un po quanti soldi per il bonus e lealtà loro voi invece quante me ne date 15.000 se non fosse che cosa di costa troppo farei anche il assi tu sei pronto ok 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 ah si altro contratto sono un non fosse un imbecille io si dovrebbe essere un gioco da ragazzi ok dai queste ultime percentuali sono sempre le più difficili da fare ma finché continuo a ottenere fossili di qualità media alta non dovrebbe essere troppo difficile ho più di 1300 visitatori ancora due minuti probabilmente tutto grazie ai miei sono gli edmontosauri al cento per cento è una skin anche loro così no continuano a non avere skin che scatole che si però no non incubi in cuba o in cuba era più alpino corvo intuitivo durezza pelle e durezza pelle ok così poi di questi me ne posso fare un po però prima devo isla nublar sbloccata perché succede sempre tutto quando non ci sto a pensare quell'isola era piena di meraviglie e di vita un impossibile primordiale istintiva predatrice e preistorica vita e morte è questa l'eredità di isla nublar non il sogno di Hammond di un parco giurassico pensi che cosa è più appropriato proprio fino a tre non avete problemi no ok dovevo assoluto un po di dimostrazione di supremazia ok il fatto che si ammazzano fra di loro non la sapevo non la sapevo ho ho preso la sprovvista nell'ultimo episodio Mi piace questo contratto e dovrebbe piacere anche a te Questo almeno E' facile da fare Visto che Rosso di sera o rosso di mattina Quale dei due non è un buon segno? Una cosa è certa Sai cosa non è mai un buon segno? Il suolo rosso Malcom Se quel contratto è stato completato E' merito del tuo impegno Quale? Non ho la minima idea di Di quale stesse parlando Quando riceverò un altro contratto Saprò a chi rivolgerlo Qualcuno mi sa dire Quale è il contratto che me lo so Chissà se per caso Potrei già farlo Arido Difesa di almeno 33 vuole 19 23 Con difesa pari a 33 Ma Difesa 33 E a 23 arriva Ci guadagna 10 punti Negli ultimi Nell'ultimo 10% di Ne dubito fortemente Oh io Detesto quando fanno così E infatti esaurito Ma che scatola Ora mi dovrò dividere anche i I cosi di triceratopo E il problema di quelli che ti danno una creatura sola Si esauriscono in fretta Molto in fretta Non è che per caso ci sono No Altre ricerche Soggetti genetici Ah sì Ah ecco Difesa e robustezza E attacco e difesa Ah ecco Scusate Scusate C'era Qualcosa che non mi tornava Ok 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 Allora Contratto Usa la fotocamera Una foto a un dinosauro Che sta mangiando da una carcassa Ok Quindi Ricognizione fotografica Svolta qualcuna ai miei tempi Questo contratto è la tua occasione Visto le tue capacità Fare qualche foto Per messare un gioco da ragazzo Lo studio Mimo Veicolo guida Stai facendo diventare la divisione in trattenimento Ah ecco il clacson Come che si fa Fatemi passare Ho delle foto da fare Oppure Oppure Uh e voi avete finito il cibo Ok Ok Ora qua si deve solo stare ad aspettare Che decidano di dare una Morsicata Allo studio Mimo Perfetto 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 Isstinti aggressivi Così posso Rifare lì Uh oh oh si peccato per la ripetizione di specie ma perfetto la miseria addirittura ora vediamo un po il dracorex a ecco questo da più difesa ok 28 questo vuol dire che ho ottenuto quello che volevo durezza della pelle 2.0 ok allora vediamo un po spedizione sta andando fossile sta andando ricerca la sta facendo ok quindi a questo punto devo solo continuare a prendere contratti per sbloccare la difesa extra in cuba schiudi e libra almeno quattro nuovi dinosauri vorrei farlo ma questo da meno attacco no no da più robustezza no 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 non va bene no devo assolutamente fare il resto della missione oh questo dovrebbe portarmi al 100% di dracorex il che vuol dire che si spera non devo più preoccuparmi di triceratopo cioè del dracorex posso semplicemente pensare vabbè vado comunque qui perché c'è anche il triceratopo che mi serve il database ingen non mi interessa allora quattro dinosauri ok allora qui al solito le vittime sacrificali ah genoma completo di dracorex perfetto esattamente quello che volevo ottenere tanto ne faccio due uno alpino e uno arido così ottengo quello poi le faccio un terzo almeno se non un qua anche un quarto che vanno a finire in uno di questi recinti qui e che mi faranno e di cui uno di loro grazie a si spero di aver raggiunto dei rari dinosauri il necessario per ottenere ah perfetto incubo con successo dinosauro incubo e schiudi e libera almeno quattro dinosauri perfetto è esattamente quello che speravo così ottengo il codice genetico che posso utilizzare per l'altra missione loro ecco ok vediamo un po' uuuu ah durazia della pelle 2.0 ecco lì quello che mi serve bella la nostra prima dracorex uuuu e vedete un massimo di popolazione ah un massimo di popolazione uuuu dov'è? requisiti soglia di comfort ah da 2 a 12 aaaa ascolta non dovrei dimostrare nulla ma mi ha colpito il modo in cui hai preso il comando uuuu belli si ma hanno decisamente bisogno di fare dell'altro e io adesso ne faccio un altro alpino ah ecco durezza pelle 2.0 ecco qua ok perfetto e ora via 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 acu raggiungi attività ho troppi istruzio mimi dracorex dracorex eeeh ah no e pianificazione pianificazione e precisione uuuu un'altra giretta al centro spedizioni inutile ma vabbè eeeh vediamo un po' altro contratto con George Lambert mantieni una valutazione a 5 stelle? dico davvero eeeh non è tutta la verità ci provo eeeh 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 ok eliminiamo anche un po' di istruzio mimi eeeh 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 ricotta Wachiu eeeh eeeh il maar eeeh eeeh anche il centro di sicurezza si eeeh adesso me ne manca una sola good continuare ad avere solo 16 visitatori 35 visitatori al solito tenese è quello che ne ha di più fast food negozio di abbigliamento vanno tutti al fast food invece che al ristorante allora struttio mimo via 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 ok adesso sta cercando di buttare giù l'ultimo dracorex l'ha preso ok altri fossili dracorex triceratopo rodio vediamo un po' qui almeno c'è anche lo struttio mimo che mi è utile da completare qua ho fatto tutto quindi nuovo contratto effetto come è successo una spedizione verso un sito di scavo è quella che sto andando a fare adesso ah il soggetto allora ah è abbastanza popolazione perché dovete essere minimo due è abbastanza sociale perché devi essere il minimo due giusto? si hai il pasco, la foresta, tutto quello che ti serve l'acqua, il cibo sei un sono morto dove? ah mi ero dimenticato che c'erano due struttio mimi qui ok avveniamo un po' laboratorio genetico siete voi che mi dovete crescere un po' e poi devo fare un po' di voi per buttarvi nell'altro coso per avere la valutazione a 5 stelle la spedizione sta andando il centro fossili sta andando devo terminare la valutazione e qui voi siete tutti belli carini ah è il 2 l'alfa ah si probabilmente perché la valutazione è più alta fa vedere 46 46 46 ah quanto sono belli allora vediamo un po' già scritto cosa serve per la valutazione a 5 stelle cosa manca ascoltate che ci sono dei morti manca benessere adeguato e manca sempre il divertimento seria che dire il montosauro non mi serve è tricerato possibile via a sto punto prima a finirlo qui contratti nuovo contratti quando le cose vanno male un dinosauro ha 2 vittorie in combattimento un dinosauro 2 vittorie in combattimento questo bisogno di volere in qualche modo dominare i dinosauri è un errore ci serve la loro fiducia metterli gli uni contro gli altri non servirà a niente bene cosa mi dice qua geni d'attacco genioada go combattimento non lo sa mica io un attimo vediamo un po se no non credo però anche questi qua fanno lo stesso se non sbaglio però lo fanno con i piccoli carnivori che non ho ho un'idea a 100 per cento allora uno mi faccio il mincerato più qui così poi qui faccio ecco sì 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 ha il suo nome quindi via e via serve ancora solo una vittoria in combattimento quindi prendo così vedo anche quali sono le sue caratteristiche voi due vi lascio ko per un po così è solo boss che va ad ad come si dice affrontare il l'altro dinosauro portava la valutazione dinosauri a tre stelle dovrei averlo già fatto questo contratto è proprio quello che ci vuole quindi vorrei che lo prendessi in considerazione a tre stelle la valutazione dinosauri a previa del benessere scarso a previa del benessere scarso a perché ce ne sono di alcuni ko tu sei quello alpino giusto ti invece sei quello arido tu hai incubato un triceratops potrà sembrarti carino ma tra una settimana cambierai idea no perché è bellissimo giganto spinosauro non è uno spinosauro gigante è uno spi è un coso con tante spine giganti ok hai una base adattabile e hai delle statistiche decisamente basse un altro membro degli stegosauridi la sicurezza richiede attenzione e dedizione nell'affrontare i vari incarichi hai dimostrato quanto vale oh ce l'abbiamo fatta proceratosauro ce l'abbiamo fatta ahahahah signore e signori vabbè voi ti lascio tornare voi vi lascio tornare ecco a voi l'ultimo due minuti ehm bonus di islamatanseros adesso abbiamo sbloccato tutto letteralmente tutto quello che c'è da sbloccare qui a islamatanseros non penso che ci sia niente da sbloccare a no anche islamuerta e islamublar perché non ti richiede le 5 stelle non ti fa niente vedete vedete se qua si mettono a combattere ma a sto punto direi che la cosa è relativamente poco interessante ok questa è la fine di islamatanseros così com'è ho ottenuto letteralmente tutto quello che volevo ho completato le missioni ho completato i requisiti per sbloccare lo sbloccabile solo di tutto arrivato a 4 stelle senza manco volerlo a sto punto la prossima puntata noi ci rivediamo su isla muerta perché ho fatto uno screenshot quindi ci rivediamo alla prossima signore e signori ciao ciao